A lui, al grande, al grande poeta. Sto parlando di Fabrizio Di Andrè, questo grande poeta che ci ha lasciato appunto in eredità tanta di quella roba, tanti di quei grandi. Stasera vi facciamo ascoltare un trittico di Fabrizio Di Andrè. Lo apre di nuovo Giuditta Cassano con l'accelerima Il Pestatore di Fabrizio Di Andrè. Grazie. 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 Grazie.